Ciao a tutti, era tantissimo tempo che non mi sedevo qui davanti a una telecamera a parlare di fumetti Disney e finalmente è arrivata l'occasione, l'occasione giusta che si presenta con questo nuovo progetto la Barks Anthology, una nuova serie di video che vogliono essere una sorta di guida alla lettura alle storie di Carl Barks. Tutte le storie di Carl Barks più importanti saranno una a una analizzate e commentate dal sottoscritto, come facevo alcuni anni fa per chi mi seguiva ai tempi con il progetto Barks, di cui Barks Anthology vuole raccogliere il testimone. La filosofia alla base è praticamente la stessa omaggiare il grande uomo dei paperi che tanto amo, ma con modalità un po' differenti. In Barks Anthology infatti a ognuna delle maggiori storie del maestro dell'Oregon dedicherò un singolo video, della durata di 2-3 minuti quindi molto breve, in cui condensare informazioni, opinioni e curiosità sulla storia in questione. Trovo sia necessario capire perché Carl Barks sia stato il genio che è stato, perché per tantissime persone è il più grande narratore del Novecento o comunque uno dei più grandi e perché le sue storie, capolavori assoluti, piacevano ieri, piacciono oggi e soprattutto piaceranno anche domani. La Barks Anthology vuole essere un umile tentativo di omaggiare il grande maestro e di proporre degli spunti di riflessione che poi ovviamente spero verranno raccolti nei commenti sulla mia pagina Facebook, ventenni che piangono leggendo la saga di Paperoni e Paperoni e ovviamente sotto ai vari video pubblicati su YouTube. Nella speranza che apprezziate questa nuova iniziativa vi do appuntamento alla prima puntata della Barks Anthology.